Ave gente e bentornati su Promerdus ce l'avamo lasciati qui a questo decisivo piano volevo provare ad aumentare la difficoltà ed oggi il nostro cagnolino di vicini ha deciso di entrare in causa ma se io volessi aumentare la difficoltà perché mi da solo normale non posso entrare qua dalle opzioni sotto quando salivo all'ingresso dell'ascensore mi ha dato soltanto la possibilità di scegliere o meno le direttive che teniamo sempre le stesse la nebbia di guerra così non vediamo sul radar i nemici non non abbiamo la recensione automatica della corazza quindi dobbiamo forse utilizzare i kit oppure il drone medico nel mio caso o chi utilizza magari la stazione con la pistola per ottenere le altre munizioni e la furia o non ricordo come si chiama comunque i nemici si incazzano man mano che gli uccidi gli amici eh mi sta facendo ah si ha proprio cambiato cambiato il piano giusto che eravamo arrivati che c'erano i droni invece adesso ha cambiato ha scelto un'altra giocata ti vai a prendere lui beh vabbè gli avevo detto di andarlo a prendere ma mi ha ignorato proprio non l'ha neanche non l'ha neanche ammazzato ok il discorso della furia che loro diventano più aggressivi più aggressivi e più diciamo precisi nel colpire all'aumentare della loro furia stessa in base a quando uccido i compagni perdono lo status di furia uccidendo un furioso vanno giù con dei colpi alla testa che sono un piacere no vabbè fammelo spawnare alle spalle no sono ammazzato da solo mitra scusate mi sto strozzando muori non ricordo se abbiamo ancora degli ad 18 attivi o qualcosa spero che si sblocchi qualche obiettivo in modo che mi aggiorna vorrei che mi aggiornasse sullo status attuale delle mie impostazioni vorrei pure poter cambiare difficoltà magari aumentarla di poco se arrivano in fiamme no oh finalmente qualcosa di utile da quando quella cosa che ti blocca quella cosa che ti blocca è in grado di dare fuoco alle tanniche te la scoppio la torretta no si è girato no 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 non è vero non è vero la stai caricando ancora no continuano è proprio il punto che sanguina 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 vabbè ti spacco una gamba ho capito ok stavolta ci ha droppato un po' da roba interessante ah si sapevo che dovevamo fare le uccisioni con questo con l'arma speciale adesso ricordo munizioni come siamo prima che ti utilizzo la pistola poi il fucile da cecchino letteralmente OP la chiave l'abbiamo presa non apre niente di qui ok perfetto sgombra il piano non c'è niente non ci sono porte non mi sembra che abbiamo utilizzato niente tutto questo si si l'ho usato una granata giusto siccome non ci ammazzo quasi mai nessuno sinceramente scordo pure l'abitudine se utilizzo o meno le granate e quello è un bruttissimo oggetto quindi questi sono i black task mi fa piacere avevo utilizzato due granate che dovevano fargli danno e non lo hanno fatto ooooh ooooh e vi aggomitate ci vedete quell'accetta dove la metto maledetto aia 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 mi piace addietro il coso mi piace ma la pallina in tutto questo cosa sta facendo perché la pallina non attacca perché la pallina immune no non ci credo vabbè io sparo anche sul muro sono sono bravo cioè dovevo distruggere i terminali per poter danneggiare quei cosi ma no non è non è possibile cioè sarebbe più logico sarebbe più logico che infatti ma era più logico che lo danneggiassi e si rigenerasse ma che mi rappresenta il genere mi ha schiettato il drone immune aaaaa Ah, ok, scoppia proprio direttamente Allora, 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 allora Fatto Ho detto che voleva farsi saltare il cervello, giusto? Io l'ho aiutato Guarda che bella sta Ah, si è tolta, è sparita Vabbè, volevo far esplodere la nube di Di gas che c'era ancora lì Nube di gas infinita Vediamo se l'ha un poco La pistola alla prossima Recuperiamo un po' di munizioni Muniziami Droni? Vedo già che segna qualcosa di cattivo lì giù Metti in sicurezza l'area Distruggi la stazione di supporto Violata? Ok, ok, perfetto Quindi violata significa che se io faccio così Quel coso scoppia Eh? Oh Niente Mi spara attraverso il server No, no, l'illusione ottica Facciamo di no? Oh Tieni, dai, tiro pure una granata Che sei andata a nascondere? Vieni qua che ti sta curando quel terminale maledetto Non lo prendo quello schifo? Sì, lo prendo Ce ne vediamo un'altra Le do Ancora niente Via Via di granate, via No, l'ha ricaricata completamente Io ti scoppio Spacco le gambe Proiettile scoppiami Questo è rimasto qui così Non doveva esplodere Oddio, 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 oddio No, vabbè, non si può non sprecare così colpi da vicino Eh, da vicino non è proprio il caso Cioè, si spregano proprio le munizioni Completa, nello, difficoltà a qualsiasi 2 di 30 Eh? Ma sono queste le cose che ho abitato? No Sono quelle giornaliere, quelle Non mi sembra che siano quelle che ho abitato io Mi risulta, almeno Boh 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 Squadra nemica non standard Che cazzo significa non standard? Non standard Squadra nemica non standard Va Vai Che cazzo so Mette in sicurezza l'aria Ah, il cecchino di merda Tutti i cecchini Io vedo fuoco Bam Ah già Ah, no, non ce l'ho Ok, pensavo di averceli Do fuoco Sanguina? Non dovrebbe prendere fuoco Sanguina e basta Ah, sono esplosivi Non incendiari Ah, ok, ok Tanto ma si spegne piano piano Ancora acceso Mori un po' Eh, che liscio Vai pallina Su Gioca, va 15 colpi Ok, l'ha ammazzato Niente Ero già pronto a correre di pistola Che prende un po' di munizioni Poi guarderò quello che mi ha dato C'ho ancora 6-7 verdi Che non ho minimamente considerato 3, così A colpo secco Adoro il lanciacranate Io ci riprovo Che ci sarà qui dentro ogni tanto Oh, finalmente una sedia Tutte quelle che ho aperto Questa è quella più seria 48k di danni Per quanto sia bello il vector Non ci faccio niente Comunque c'è delle inquadrature Che fanno veramente schifo Quando apri le casse Dove siamo? Metti in sicurezza l'aria Eh, ho capito Ok, niente ne... Ah, eccolo Ok, niente nebbia di guerra Ah, fammi vedere qualcosa Quello è completamente sovraccaricato Cassato come una bici Volevo delle munizioni Ma mi sa che l'ha ammazzata una granata Me le rilascerai tu Mi ha dato anche un altro colpo di lanciacranate Dove sono i cattivi? Questa è una sala server C'è tanto fumo in questa sala server Erano solo quelli cattivi Tenente nemico rilevato Beh, un tenente Quindi questa potrebbe essere un po' più movimentata Sì, un po' più movimentata Ecco il tenente nemico Intanto lo danneggiamo così E poi la granata Non gli fa niente Guarda questo tenente nemico Oh, ma le munizioni? Ok, sì, bravo Proprio lì, perfetto E io adesso scoppio la faccia Vedo il piedino No, non filtra Ah, no, eccolo È arrivato il tenente Ciao, tenente Rockstar Si chiama Rockstar? Eh, ma Rockstar non è sveglio Rockstar non è proprio sveglio Che stai a fa' Che stai a toccare Alla petera Eh, ma muori Pure che scatta quella granata Che tira le I iodini Eh, no, no Ma hanno troppato le munizioni? Forse perché Oddio, oddio, oddio Ah, ecco che ne ha da fare Prende le munizioncine Questo qui vicino Li prende anche Non mi colpiscono neanche le munizioni Pensa Vabbè, mi sa che tocca aumentare un po' La difficoltà perché Il tenente Nasega Gli elite Nasega Alla fine è molto blando Questo Oh 52k e 5 Rispetto all'altro Se abbiamo un po' di roba che devo pulire E vendere Ma il mio ak fa sempre 96 Anche se è più lento Cioè Questo vector 45 Cioè C'è un vector 9 mm E un vector 45 Anche se fa 52 Cioè Vedete Il mio principale Principale Danni Scendono No Colpi a minuto Caricatore Sì ma Non Principale danni 96k Danno Principale suo Aspetta perché sto con Il primo Ok Dobbiamo andare con il secondo Cioè se io prendo Il vector Addirittura questo da 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 48k Adesso noi mi dobbiamo mettere sopra il 45 Perché Allora Noi al momento abbiamo 11% Danno fucile d'assalto 15% Danno salute E Cadenza di fuoco 3.8 35% I danni successivi Colpi la testa Per 2 secondi Colpendo il corpo Comunabile fino a un massimo Di 3 volte Cazzo Per direttore Ah ok Insomma Se miriamo la testa Fiamo più male Questo da 9 mm Danni metri 7.2 Probabilità critico Danni critici Invece Il bonus Colpendo un nemico Ottieni 15% Danni a beta Quindi la mia granata Farebbe più danni La pallina Usando l'abilità Parregando danni a un nemico Grazie a esso Attieni 15% Danni arma Per 5 secondi Quindi dopo che Ha fatto danno la pallina Noi facciamo più danni L'incremento dei danni Raddoppia Se entrambi i bonus Sono attivi Va bene Questo quindi dovrebbe garantirci Più danno Un combinato però Ma è a tempo È a tempo Perché giustamente Se finiamo Ah sì Precisione Stabilità E la cadenza Ovviamente Questo colpo Cade molto prima Quindi il danno Diminisce molto prima Sulla lunga gittata Danni metri Tra col batal critico Dimensione caricatore Questo c'ha più colpi Poi Danni arma Aumentano i 3% Ogni 10% Di munizioni Mancanti nel caricatore No Questa l'ho già provata È orribile Vabbè che è un vector Ora ci mette un attimo Però è orribile No mi tengo la K Mi sarebbe piaciuto Tanto usare L'M60 Ma non faccio Abbastanza danni Incremento danni arma 2% Ogni 5 metri Di distanza In più Del bersaglio E non sarebbe Malvagia Questa Però 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 Danni Mi dici Danno bersaglio Ah che poi ci sarebbe Anche l'altra cosa Perché adesso La mia vita Ha i danni da mitra Quindi dovrei andare A ricostituire La natura Dei miei punti No Allora Resto Resto umile Mi tengo la K Il video termina qui Spero vi sia piaciuto Intanto andiamo a salvare Il checkpoint Se Appunto Vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like A condividerlo Per aiutarmi a crescere E ad iscrivervi al canale Quello non l'abbiate già fatto Per restare sempre aggiornati Con i futuri contenuti Che pubblicherò Un saluto Da Snoopy Al prossimo video Ave Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.